Ciao ragazze, eccomi in un nuovo video, questa volta tema capelli come potete vedere ho un nuovo look e diciamo un aspetto un po' più silver se così si può dire ho fatto questo video sempre in collaborazione con Matrix e con il parrucchiere Merlin Quaffer di Rutigliano ai quali mando un bacione grandissimo se vi seguite da poco, se non avete visto il video precedente ve lo lascio giù nell'info box e nelle schede in cui appunto in questo video ho realizzato il colore viola sui miei capelli che come sapete è il mio preferito però volevo cambiare, provare qualcosa di diverso e quindi eccomi qui con questo nuovo colore silver siamo riusciti a ottenere questo risultato grazie a un nuovo prodotto Matrix che si chiama Bond Ultim 8 ha delle caratteristiche fantastiche perché potete decolorare i vostri capelli senza perdere l'elasticità dei capelli, la tonicità e soprattutto senza rovinarli io devo dire che sono rimasta davvero impressionata dalla qualità del prodotto in quanto dopo il trattamento i miei capelli al tatto erano ancora morbidissimi quindi nonostante abbiamo decolorato parecchio per ottenere questo risultato devo dire che i miei capelli sono rimasti esattamente come erano, non si sono rovinati vi lascio dunque al procedimento e ci rivediamo subito dopo a presto Grazie a tutti. E quindi questi erano tutti i passaggi per ottenere questo risultato. Io mi sento di cuore di consigliarvi questo prodotto se volete effettuare appunto un cambio radicale nel vostro look senza rovinare i vostri capelli perché è davvero un prodotto magnifico. Quindi ricapitolando cosa abbiamo fatto come prima fase abbiamo applicato il bond ultimo 8 fase 1 insieme al decolorante per andare a decolorare i capelli. Quindi successivamente è stato aggiunto sempre il bond fase 1 nel colore che abbiamo applicato nel tonalizzante che abbiamo applicato sui nostri capelli o nel vostro caso sul vostro colore. E successivamente per chiudere il tutto cioè per chiudere il trattamento effettuato con la fase 1 abbiamo applicato il bond ultimo 8 fase 2 massaggiato sui capelli e poi risciacquato. Inoltre per continuare il trattamento a casa è previsto una fase 3 che è questa qui. È una maschera meravigliosa. Quando la applicate sentite già sciacquando i capelli, i capelli morbidissimi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete ulteriori domande lasciatemele qui giù con un commentino. Io spero che il risultato finale mi piaccia. Io mi sono molto contenta e non vedo l'ora di cambiare nuovamente i capelli perché sapete che ormai è partita la pazzia. Ormai non riesco più ad avere un colore di capelli tra virgolette normale e quindi chissà quale sarà il mio prossimo colore. Io colgo l'occasione ancora di ringraziare Matrix e di ringraziare il parrucchiere Marilyn Quaffaire. Io vi mando un grosso 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 bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!